Le polizze Multiramo stanno attirando sempre più l'interesse del settore, come stanno andando in Italia? Le polizze stanno andando molto bene, abbiamo avuto un anno nel 2014, una grossissima crescita, ma anche il 2015 fanno vedere dai primi risultati dell'anno che anche quest'anno c'è una grossa richiesta per questa tipologia di prodotto. E Siempre Partner in particolare, quali risultati sta ottenendo? Noi siamo partiti l'anno scorso e ad oggi abbiamo più di 20 distributori e quindi vuol dire che il mercato sta apprezzando la nostra offerta. Quali sono i vantaggi delle polizze Multiramo e della vostra offerta? Sicuramente la parte più importante è la parte di gestione separata, oggi specialmente dove ci sono problemi sulle gestioni separate e quindi le assicurazioni fanno fatica a vendere il prodotto, inserirle in un contenitore insieme alla parte Unilink è una soluzione che è bene accettata. Avendo le due componenti, il ramo primo e il ramo terzo, in un unico contenitore, quindi c'è un'ottimizzazione fiscale da parte di vista del cliente, c'è la possibilità di personalizzare molto meglio il prodotto ad hoc sul singolo cliente e in più, essendo un prodotto a vita intera, c'è la possibilità poi di seguire l'evoluzione dei bisogni e delle esigenze del cliente nel tempo. Ma in particolare, che cosa intendete per personalizzazione? Interessante domanda, perché la personalizzazione sia lato distributore, perché noi riusciamo a personalizzare la soluzione per la singola banca distributore, inserendo nel contenitore Multiramo anche per esempio una copia delle gestioni patrimoniali dell'azienda e quindi offriamo dei fondi interni che replicano quelle che sono le gestioni patrimoniali del distributore e quindi c'è una continuità verso il cliente, ma verso la stessa rete di prodotto, nel proporre il prodotto. E poi c'è una personalizzazione lato cliente finale, perché sulla parte Unilink noi offriamo un'offerta di fondi esterni molto variegata, più di 100 fondi esterni, più di 40 società di gestione rappresentate e quindi è possibile costruire il prodotto finale ad hoc sulle esigenze del singolo cliente, sempre chiaramente aiutato, consigliato dal relationship manager. La possibilità di personalizzare è una caratteristica che il mercato apprezza? Ma sì, sicuramente ogni cliente è diverso dall'altro e quindi è impossibile proporre lo stesso prodotto a più di un cliente, e quindi non è giusto. Quindi avere questo tipo di flessibilità all'interno dello stesso prodotto e quindi avere poi la componente gestione separata che in un'ottica anche di medio e lungo termine, quando pensiamo a quando tra qualche anno speriamo i tassi inizieranno a rialzarsi, quella componente siamo già sicuri che non perderà. E quindi avere questa personalizzazione, questa focalizzazione alla fine sul cliente finale è sicuramente un valore aggiunto che con la nostra soluzione noi diamo ai nostri clienti. Ci ha parlato della forte crescita che state avendo anche quest'anno, come vedete il futuro? Le prospettive sicuramente sono rose al momento, incrociamo le dita, ma sicuramente con il nostro tipo di offerta vediamo che c'è richiesta da parte delle banche. Attraverso noi anche una banca di medio e piccole dimensioni può avere un'offerta dell'open, famosa open architecture, quindi con un solo accordo commerciale con noi gli apriamo un mondo di SGR, di 40-50 SGR, che sarebbe quasi impossibile per la banca di fare accordi commerciali con tutti loro. Quindi in un unico prodotto i nostri distributori vedono un'importante soluzione e quindi è solo una questione di mettersi e disegnare ogni soluzione finale con ogni singola rete. Quindi questo ci vuole un po' di tempo, ma stiamo lavorando allacremente.